metterai sulla playlist andrei verso nord senza una meta con mia moglie e mia figlia con gli amici a divertirmi su pista rally negli stati uniti profondo ritmo il suono di urus performante in base alle modalità di guida parte da un sound confortevole di modalità strada per poi esprimersi in un sound fun to drive in modalità sport e rally ed infine raggiungere l'apice in modalità corsa track oriente per creare la playlist del vuoto sono partito come sempre dall'analisi della frequenza qui però una delle frequenze era 50 hertz e 50 hertz sono la frequenza fondamentale della cassa della batteria quindi il ritmo doveva essere una parte importante in questa playlist uno strumento musicale che associerei al suono del vuoto e la batteria il suono intenso di una batteria rappresenta bene l'effetto di combustione del vuoto ed enfatizza il movimento dei pistoni all'interno dei cilindri all'interno dei cilindri grazie a tutti